Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz e ben ritrovati a un nuovo appuntamento in compagnia di Turbo Daily. Stiamo andando verso la fine dell'anno e quindi i temi da trattare in qualche modo si stanno esaurendo, infatti se andiamo a vedere quelle che sono le aperture le vediamo comunque poco mosse contrastate senza particolari spunti anche perché diciamo i movimenti significativi li abbiamo avuti nei giorni scorsi in particolare sull'SP500 che ha aggiornato appunto i massimi assoluti una corsa che sembra non volersi assolutamente arrestare ma andiamo sul grafico in modo da poterla vedere meglio sostanzialmente questo è quello che sta succedendo sull'indice SP500 da diverso tempo a questa parte. Se osserviamo il 2021 la crescita è veramente bella tra l'altro da manuale di analisi tecnica perché abbiamo massimi e minimi via via crescenti che portano i prezzi a salire continuamente tuttavia anche in fasi di rialzo così importanti e sappiamo che comunque il nostro portafoglio ha un'esposizione al rialzo, abbiamo un log sul DAX eccetera eccetera, molto spesso c'è la possibilità di poter avvantaggiarsi dei piccoli ritracciamenti che sono di fatto fisiologici, cosa succede? Il mercato viene comprato poi c'è una correzione e questo continua fin tanto che il trend non inverte la sua rotta. Ebbene questo è esattamente quello che cercheremo di fare oggi, abbiamo un portafoglio in questo momento sbilanciato al rialzo, cercheremo di andare a vendere per coprire il nostro portafoglio con stop che metteremo in termini percentuali intorno all'1% sopra il livello di ingresso e cercheremo di andare a prendere un profitto più importante. Come area abbiamo individuato questa perché come potete notare un'area che aveva diciamo era stata una resistenza in passato potrebbe essere un supporto per i prezzi, una volta rotta quest'area potremmo vedere ulteriori allunghi quindi magari io suggerirei qua dove ho tracciato la linea verde di chiudere eventualmente dovessimo arrivarci metà della posizione magari lasciar correre il resto per ottenere un profitto maggiore. Ma andiamo sul sito di investimenti.bnpparibas.it per vedere come impostare questo tipo di operatività. Clicchiamo su certificati a leva, turbo e mini future, andiamo quindi nella sezione dedicata, io ho già selezionato appunto indice SP500, short, questo vi aiuta molto per cercare il prodotto che vi serve, turbo e turbo unlimited, ovviamente sugli indici americani c'è una vasta gamma di prodotti e potete scegliere quello con la leva che più vi aggrada. Io nello specifico ho preso un prodotto unlimited quindi senza scadenza e si tratta dell'NLBNPIT14GM6. Andiamo in piattaforma per vedere come impostare questo tipo di operatività. Ho messo appunto il livello al quale voglio acquistare a 4,70 euro per certificato, per 200 certificati. Questo significa andare a investire circa 1000 euro sui certificati da investimento e quindi un controvalore equivalente con la leva che viene offerta di circa 10.000 euro sul sottostante. Andiamo quindi infine a ricapitolare quello che è il trade che abbiamo proposto nella giornata odierna, come livello di ingresso abbiamo 4.805 punti, lo stop loss lo andiamo a posizionare a 4.865 punti, il nostro livello di target invece sarà posto a 4.720 punti, vi ricordo come detto prima un livello dove liquiderei metà della posizione, il resto lo farei correre per ottenere dei profitti maggiori, ovviamente dovessi aver ragione. Da parte di Enrico Lanati per oggi è tutto, io come sempre vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento a domani.